Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video e oggi in questo video vi parlerò sia dei nuovi giocatori transferred presenti sul mercato e vi parlerò anche del team of the tournament per quanto riguarda la Coppa America ma partiamo subito dai nuovi giocatori disponibili nei pacchetti che sono quelli che hanno cambiato squadra al momento partiamo subito dalla serie a visto che è il nostro campionato prima di tutti vi segnalo un giocatore abbastanza interessante è Luis Adriano ex Chuck Tardones che è presente nella sua versione del Milan ma più importante di tutti è il passaggio di una leggenda come Andrea Pirlo al New York City squadra che presenta anche davvero altri giocatori interessanti come Lampard e Kakà ma vediamo altri due acquisti per quanto riguarda la Juve Sami Kedir, giocatore molto interessante del Real Madrid e infine Mandzukic, giocatore molto forte di testa ex Atletico Madrid quindi diciamo niente male i rinforzi della Juve anche se hanno perso sfortunatamente Pirlo poi altri giocatori della serie a come possiamo vedere nella squadra principale l'Inter è stata davvero abbastanza scatenata sul mercato infatti ha acquistato il giocatore Joao Miranda dell'Atletico Madrid con Dogbia soffiato al Milan e infine Montoya dal Barcellona quindi si è molto rinforzato a centrocampo in difesa chissà che non sia un anno buono per le squadre di Milano ma vediamo ora la Barclays Premier League che presenta giocatori davvero molto interessanti partiamo da Divock Origi che è finalmente tornato a Liverpool a Liverpool è approdato invece l'ex giocatore dell'Offenheim Roberto Firmin infine un'altra leggenda che se ne va è Stevie Gerrard che è passato ai Los Angeles Galaxy dopo tantissimi anni che era a Liverpool così come Lampard come avevamo detto in precedenza altro giocatore che è passato al Chelsea si tratta di Radamel Garcia Falcao altri acquisti interessanti sono Cedric del Southampton che è arrivato dallo Sporting Lisbona e infine Pagliè ottimo giocatore team of the season dalla Francia è arrivato all'Aston Villa tra gli altri giocatori davvero molto interessanti in particolare nella sezione degli skiller bisogna sicuramente mettere Douglas Costa che ho anche acquistato perché mi sembrava davvero interessantissimo questo giocatore al Bayern Monaco questo skiller ex Shakhtar Donetsk davvero assolutamente da provare infine altri giocatori interessanti per quanto riguarda gli skiller è sicuramente Memphis Depay che è approdato al Manchester United dopo tantissimo tempo al PSV Eindhoven altro giocatore skiller che è passato sfortunatamente in un campionato meno noto è infatti Nani che è disponibile sia nella versione Alfein Erbach che nella versione vecchia diciamo del Manchester United e quella dello Sporting Lisbona poi abbiamo anche altri giocatori per quanto riguarda la Liga VVA come Danilo Luiz da Silva che è un ottimo terzino e infine per quanto riguarda il campionato portoghese abbiamo Tarapt che è approdato al Benfica parlando invece del Team of the Tournament vi metterò un'immagine di quello che molto probabilmente sarà la squadra della Coppa America con i migliori giocatori che potremo finalmente trovare nei pacchetti da stasera probabilmente alle 18 o 19 e quindi diciamo sarà una buona occasione se vorrete spacchettare per trovare qualche Man of the Match giocatore speciale della Coppa America io spero che vi sia stato utile questo mio video sui Team of the Tournament e sui giocatori transfer detto questo vi invito a lasciare un viaggio e ciao a tutti ragazzi al prossimo video